Il primo polo per le biotecnologie nasce sulla base dell'analisi dei fabbisogni formativi fatta dalle imprese del territorio piemontese per il settore scienze della vita, biotecnologie e salute. Il polo di cui sarà capofila l'istituto di istruzione superiore Olivetti di Ivrea, in collaborazione con numerosi altri istituti di Torino e provincia, è stato presentato questa mattina alla presenza dell'assessore dall'istruzione Gianna Pentenero dei rappresentanti delle istituzioni scolastiche, delle agenzie formative, dei centri di ricerca e delle università partner del progetto. Il polo delle biotecnologie che oggi abbiamo presentato rappresenta uno dei 18 poli che abbiamo istituito durante il 2008, oggi parte la fase attuativa del percorso IFTS che concretizza l'attività di rete e l'attività di sperimentazione messa in atto dalle scuole superiori, dalle agenzie formative, dai centri di ricerca, dall'università e dai soggetti privati, dalle aziende che hanno contribuito alla costituzione del polo. Il settore delle biotecnologie rappresenta un'eccellenza all'interno della nostra regione, un punto sul quale investire e per il quale è necessario individuare nuove figure professionali che siano in grado di lavorare all'interno di un settore così specifico per il quale appunto è necessaria una preparazione tecnologica particolare e quindi un percorso a sostegno di chi lavora all'interno di questo settore. La frequenza ai corsi e ai laboratori permetterà a giovani e adulti sia occupati che disoccupati di integrare il percorso formativo tradizionale con l'approfondimento delle conoscenze di biologia molecolare. Il tecnico in scienze della vita potrà così trovare spazio occupazionale come figure di supporto in laboratori, aziende e strutture sanitarie. Rappresento l'istituto Camillo Olivetti di Ivrea, istituto capofila del polo per le biotecnologie del Piemonte. Il polo è nato sulla sinergia di diversi partner e di diversi componenti. La caratteristica di questo polo è proprio quello di essere un polo interprovinciale quindi di non essere limitato alla provincia di Torino. Ci sono prospettive occupazionali e soprattutto è un polo che va a incidere su diversi settori. Partirà a pochi giorni il primo corso IFTS, molto interessante perché è un corso che non solo guarderà le scienze della vita ma anche tutto ciò che riguarda la sicurezza e la qualità. Al termine del corso IFTS la Regione Piemonte rilascerà il certificato di specializzazione tecnica superiore in sicurezza e qualità nelle scienze della vita, valido su tutto il territorio nazionale.